decisamente il caravela l'ho amato alla follia il primo aeroplano che che pilotavo e insomma ci avevo fatto un po tutta la mia il mio iter professionale quindi è inevitabile questo e poi devo dire le md 11 che è una macchina che un po perché ho fatto addestramento in america dove le cose ci sono state illuminate con sotto una certa una certa maniera insomma e così poi l'addestramento i tipi di voli che faceva la strumentazione estremamente avanzata e così insomma è stato per me un grandissimo aeroplano non ha avuto poi una fortuna e una lunga vita commerciale un po ritengo per diatribe diatribe commerciali tra boeing e dagras e tutti gli md 11 sono finiti e ancora adesso quelli che volono sono in mano alla fedex che sono trasformati in cargo e anche la lufthansa ce n'è ancora un po in cargo